Con queste immagini che ricordano il concerto verticale, evento locale dal sapore internazionale ideato tre anni fa dal cremasco Angelo Dossena, recentemente scomparso, la bellezza della Basilica di Santa Maria della Croce torna ad essere protagonista per tutto il mese di maggio. Sì, perché maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna e proprio qui, il 3 aprile del 1490, la Vergine Maria apparve in soccorso a Caterina degli Uberti, giovane sposa di Bartolomeo Pederbelli, che la feria morte a colpi difendente. Caterina, morente nel bosco Il Novelletto, appena fuori crema, dove in seguito fu costruita la Basilica di Santa Maria, invocò l'aiuto della Vergine, non per essere salvata da morte certa, ma per poter ricevere l'Eucaristia prima di morire. E così avvenne. Il mese dopo, il 3 maggio 1490, nello stesso punto in cui apparve la Vergine, si compì il primo miracolo nei confronti di un ragazzo undicenne, Francesco Marazzi, che fu guarito da un'infermità su cui i medici mai erano riusciti ad intervenire. Da quell'episodio ebbe inizio una serie di guarigioni miracolose, di persone afflitte da ogni genere di mali, che portò al pellegrinaggio sul posto di molti devoti. La Chiesa romana dette l'autorizzazione a costruire un santuario dedicato alla Madonna tra il 1490 e il 1500, su progetto di Giovanni Battaggio, vicino a Leonardo da Vinci e collaboratore del Bramante. Un episodio storico intriso di devozione religiosa che viene commemorato annualmente con un pellegrinaggio il giorno 3 maggio. Anche quest'anno il vescovo Monsignor Daniele Gianotti ha invitato tutte le famiglie appartenenti alla diocesi di Crema a recarsi a piedi da Crema alla Basilica di Santa Maria, dove sarà celebrata la messa alle 21 presieduta dal vescovo stesso. La celebrazione eucaristica di giovedì 3 maggio, a memoria del primo miracolo, è anche l'occasione per ricordare l'evento da cui tutto ebbe origine, ovvero l'intervento della Vergine in soccorso di Caterina Degliuberti, vittima di femminicidio. Un crimine già diffuso ai tempi in cui visse Caterina, ma che miete vittime anche oggi. Per questo il santuario di Santa Maria della Croce potrebbe diventare il luogo in cui si prega e si fa memoria delle vittime di femminicidio e la Vergine apparsa Caterina diventare la santa patrona di tutte le donne uccise dai propri compagni.